Riparte Scuola Artigiana, un'iniziativa di grande spessore. La sesta edizione, un'edizione veramente ricca per la partecipazione, si parla di 2000 allievi, si parla di quasi 50 maestri artigiani che si dedicheranno all'insegnamento, 17 scuole, 10 plessi scolastici e quindi veramente un tripudio di presenza in questo senso. E quindi afferma anche la valenza di questa attività nel territorio perché di fatto si porta e si esalta un modo di lavorare, un modo di sentire la manualità che ci caratterizza nel nostro passato, che ancora oggi ci rende una regione veramente importante sotto il punto di vista della produzione artigiana ma che soprattutto ci dà speranza per un futuro per i nostri ragazzi e per le nostre attività. I numeri che ha detto il Presidente sono numeri importanti e pertanto Banca Valigiano non poteva non affiancare Confartigianato per portare avanti un progetto veramente importante che cade in un momento delicatissimo, nel nostro momento negativo il 44% di disoccupazione ne è purtroppo una ampia testimonianza. L'idea è quella di fare cultura, di fare riconoscere i mestieri ma soprattutto credo che l'obiettivo è quello di creare quell'entusiasmo e dare soprattutto la Banca ma anche i maestri artigiani quella fiducia, ritrovare la fiducia perché tutti ci auguriamo che all'uscita del mondo della scuola ci sia qualche iniziativa. Iniziative che ovviamente saranno accolte dalla Banca, dal Confartigianato ma da tutto il territorio di competenza perché c'è tanto bisogno di lavoro, c'è tanto bisogno anche di creare entusiasmo e credo che iniziative come questa possano veramente dare anche entusiasmo, aprire la mente ai nostri giovani.